Il ministro del Rio in Calabria, il titolare del Dicastevole Infrastrutture, ha sottoscritto un protocollo per la viabilità insieme al presidente di ANAS, Vittorio Armani, e al governatore Mario Olivevio. Onore ai caduti in guerra, celebrata in tutta la regione la giornata delle forze armate dedicata a chi ha dato la vita per difendere la patria, particolare partecipazione e commozione a Cosenze e a Catanzaro. Porti aperte all'antimafia, due giorni per dire no con forza all'andrangheta, workshop al centro studi di Dimbadi, l'evento presieduto da Marisa Manzini, magistrato e direttore scientifico dell'Università dell'antimafia, nata nei locali della villa confiscata, la cosca Mancuso. Per non dimenticare Domenico Fatiga, a DASA nel Vibonese, una fiaccolata ha ricordato l'operario deceduto nei giorni scorsi in seguito ad un incidente sul lavoro, presente in prima linea all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Anche i boommakers, Tifano Crotone, discesa repentina della quota legata al successo pitagorico a San Siro contro l'Inter, a pesare le disavventure nerazzurre ed il cammino da primato dei calabresi nelle ultime due partite. Gentili telespettatori, buonasera, nuovo appuntamento con la nostra informazione, firmato a Mormanno, un protocollo d'intesa finalizzato alla riqualificazione di viabilità provinciali e comunali poste in adiacenza alla Salerno Reggio Calabria. Si tratta di percorsi alternativi che servono in numerosi comuni situati alle falde del Pollino, tra Calabria e Basilicata. L'accordo è stato sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, dal Presidente di ANAS Vittorio Armani, dal Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, dal Presidente facente funzioni della provincia di Cosenza, Graziano Di Natale, oltre al Presidente del Parco del Pollino, Domenico Pappaterra e ai sindaci di Leino Borgo, Leino Castello, Mormanno e Morano Calabro. Armani ha puntualizzato la natura del protocollo che impegna ANAS alla progettazione esecutiva e dalla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e comunali adiacenti o interconnesse con l'autostrada. L'investimento complessivo è di 26 milioni di euro. Il Ministro Del Rio, che vedete in queste immagini, ha confermato la sua presenza insieme a quella del Presidente del Consiglio Renzi il 22 dicembre prossimo per percorrere la Salerno Reggio Calabria, finalmente terminata. E passiamo adesso alla cronaca macabra scoperta. Questa mattina a Cosenza, a lungo il fiume Crati, all'altezza della confluenza con il Busento, rinvenuto il corpo di una persona senza vita. Il corpo di un uomo dell'età apparente di 30 anni è stato rinvenuto sulla sponda sinistra del fiume Crati, in prossimità del ponte di Alarico a Cosenza. Potrebbe trattarsi di un tossicodipendente. La polizia scientifica, infatti, nelle immediate vicinanze ha trovato alcune siringhe usate. Sul posto anche gli agenti della volante e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione sommaria, l'uomo, dopo essersi iniettato una dose, potrebbe aver presso i sensi cadendo in acqua dove poi è affogato. Non è escluso che possa invece trattarsi di un suicidio. In questo caso, però, il ragazzo avrebbe dovuto gettarsi da un luogo più a monte per poi essere trascinato a valle dalla corrente. Dubbi che saranno sciolti dal medico legale e dall'autopsia che sarà disposta certamente dal magistrato di turno per accertare le cause del decesso. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Celebrata in tutta la regione la festa delle Forze Armate, dedicata ai caduti di tutte le guerre, solenne cerimonia a Catanzaro per celebrare l'unità d'Italia e le Forze Armate, una data quella di oggi ricca di significato per ricordare e onorare gli uomini e le donne in uniforme che servono il paese secondo i valori di realtà, impegno e umanità. Anche Catanzaro ha celebrato il giorno dell'unità nazionale delle Forze Armate. Dopo la messa presso la chiesa di San Giovanni, ufficiata dal vescovo Monsignor Vincenzo Bertolone, in piazza Matteotti la solenne cerimonia militare organizzata dalla legione Carabinieri Calabria d'Intesa con la prefettura di Catanzaro. Un'occasione per meditare sul significato profondo di quei valori che animano l'operare quotidiano di chi è impegnato dentro e fuori i confini nazionali. Non c'è la guerra dichiarata, ha detto il prefetto Luisa Latella, dopo l'alza bandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti, ma ci sono tante guerre quotidiane in Italia e all'estero e le Forze dell'Ordine sono da ringraziare e onorare per il loro impegno quotidiano. Se stiamo tutti uniti, se riusciamo ad avere la forza di continuare a combattere, come per esempio ho visto in tante interviste che hanno fatto in questi giorni a cittadini delle popolazioni colpite dal terremoto, la dignità e la forza di quelle persone sono veramente un esempio per tutti quanti. Le manifestazioni servono ad unire la gente in quelli che sono i valori fondanti della nostra patria. L'impegno delle forze armate italiane in questo momento è in moltiplicissimi scenari, sia in patria che all'estero. Naturalmente ricordiamo il terremoto, le popolazioni che sono state colpite recentemente a questo gravissimo evento e anche in questa circostanza tutte le forze armate, coralmente, hanno rappresentato un'istituzione che è stata vicina al cittadino. Ricordando i valori, è importante questa capacità di vicinanza al cittadino perché è il nostro primo interlocutore a quale noi offriamo il nostro servizio nel modo migliore possibile. Rossella Galati per l'AC News 24 E a Cosenza deposta una corona dall'oro sul movimento ai caduti di Piazza della Vittoria in occasione della festa odierna. La cerimonia è stata caratterizzata dalle note musicali dell'orchestra dell'Istituto Scolastico Zumbini della città dei Bruzzi. Il servizio. Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale, la Grande Guerra, un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del secolo scorso con un prezzo altissimo in termini di perdita di vite umane. La data celebra, la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti con l'impero orstrongarico ed è divenuta la festa dedicata alle forze armate, la giornata simbolo dell'unità nazionale. A Cosenza, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, la cerimonia si è svolta in Piazza della Vittoria davanti al monumento ai caduti dove è stata deposta una corona dall'oro. Questa è una giornata che si svolge nel ricordo di un passato piuttosto lontano ma che per noi deve significare anche portare un pensiero a questo momento alle forze armate, agli appartenenti e alle loro famiglie. Le forze armate difendono la nostra terra ma soprattutto portano la pace nei teatri, negli scenari internazionali in cui sono impegnate. Inoltre, nell'ambito del progetto Caserme Aperte, i carabinieri del territorio hanno accolto i cittadini nella storica sede della Paolo Grippo ma anche a Rende, a San Marco Argentano, Paola e Cazzovillari dove sono stati allestiti degli stand con punti di informazione per i visitatori. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Parte ufficialmente l'Università dell'Antimafia Limbadi nella residenza che fu dei Mancuso. La prima lezione antimafia è la presenza tra gli altri della coordinatrice nazionale di riferimenti Adriana Musella e del magistrato Marisa Manzini. Vediamo il servizio. Ottanta studenti delle quarte e quinte classi dell'Istituto Piria di Rosarno hanno partecipato alla prima lezione dell'Università Antimafia di Limbadi ed è proprio nella residenza che fu di uno dei boss della potente cosca del Vibonese è partito il primo workshop che durerà fino a sabato quando a Limbadi arriverà il vice ministro dell'interno Filippo Bubbico. Ad aprire i lavori il magistrato Marisa Manzini che si è soffermata sulla storia, il ruolo e la personalità delle donne di Indrangheta. Io credo che questo sia un segnale molto importante che diamo in un bene confiscato a un gruppo mafioso avviare delle iniziative che hanno ad oggetto proprio la volontà di improntare il futuro sulla legalità e parlare ai ragazzi che saranno il nostro futuro vuol dire veramente riportare alla legalità tutto, tutto questo territorio. Sono seguiti gli interventi del giornalista Claudio Cordova, del vice presidente nazionale e presidente della Confapi Calabria Francesco Napoli e della coordinatrice nazionale di riferimenti. Adriana Musella durante il suo intervento ha condannato le parole del boss Pantaleone Mancuso che nelle scorse settimane durante un processo a Vibo rivolgendosi alla Manzini le ha intimato di stare zitta. Non solo la dottoressa Manzini non sta zitta come lui crede di avere ordinato ma alla dottoressa Manzini siamo vicini tutti noi quindi voglio dire noi parleremo, lei parlerà ma parleremo anche noi tutti insieme a lei. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E spostiamoci alla politica, Reggio Calabria è cominciata la rivoluzione in rosa di Falcomatazze date le deleghe di assessori e consiglieri comunali ma il vimpasto dovrebbe riguardare soltanto le quote destinate alle donne. Nella giunta in Ballo Neto, Nardi e Quattrone nel PD intanto crescono i malumori per il mancato confronto del sindaco con il partito che ha preso del vimpasto soltanto dalla stampa. Lunga riunione di maggioranza a Palazzo San Giorgio dopo la bufera innescata dalla decisione del sindaco Giuseppe Falcomatà di accelerare i tempi per il rimpasto. Dopo gli assessori anche i consiglieri comunali hanno rimesso le proprie deleghe nelle mani del primo cittadino per consentire una vera e propria seconda partenza a due anni abbondanti dalle elezioni. È chiaro tuttavia che il sindaco non cambierà tutto e che i nomi a rischio sono quelli che si fanno ormai da qualche mese e cioè quelli di Patrizia Nardi alla cultura e fortunata Neto alle attività produttive che non sembrano aver lasciato il segno nei rispettivi ambiti di competenza. Ai due nomi si aggiunge quello di Agata Quattrone, assessore allo sviluppo urbano e alla Smart City, qualche mese fa rimasta invischiata in una polemica relativa all'affidamento da parte del Comune di un incarico professionale da 190.000 euro ad una società romana per eseguire lo studio di fattibilità di un progetto di mobilità sostenibile. Insomma, ci si aspetta sostituzioni in rosa, ad eccezione di Angela Marcianò, che fin qui si è occupata di lavori pubblici. Per il resto dei componenti ci potrebbe essere un rimescolamento delle deleghe anche in applicazione al principio di rotazione al quale Falcomatà ha fatto riferimento durante la riunione di maggioranza. E questo sarebbe pure uno dei motivi per i quali il sindaco ha deciso di procedere in splendida solitudine all'operazione di azzeramento, senza nessun confronto con il partito a nessun livello, circostanza che non ha mancato di suscitare numerose critiche e che richiederà un pronto chiarimento. Riccardo Tripepi per la CNews24. Adassà nel Vibonese una fiaccolata, ricordato il sacrificio di Domenico Fatiga, operario deceduto nei giorni scorsi in seguito ad un incidente sul lavoro, presente in prima linea all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro. Una messa solenne in chiesa è una fiaccolata per le vie del paese. Così DASA ha voluto ricordare Domenico Fatiga, l'operaio morto in un incidente sul lavoro venerdì scorso nella zona industriale di Maierato. Un doppio rito corale culminato in piazza con l'ascolto di alcuni interventi presentati dal sindaco Raffaele Scaturchio, con cui si è voluto coinvolgere la popolazione non solo per farle vivere in modo collettivo il lutto della famiglia, ma soprattutto per tenere viva una mobilitazione delle coscienze contro la piaga delle morti da lavoro. Era questo l'intento dell'ANMIL, l'associazione che rappresenta le vittime e i loro familiari, che ha chiamato a raccolta anche i vertici provinciali dei sindacati confederali, i sindaci di Maierato, Arena, Acquaro e Pizzoni, e il presidente della provincia di Vibbo, Andrea Niglia. Dopo la messa celebrata da Don Bernardino Comerci, che nella omelia ha parlato di lavoro come valore sacro solo quando è svolto onestamente e in condizioni sicure, un corteo silenzioso si è mosso esibendo anche alcuni striscioni inneggianti alla domanda di sicurezza sul lavoro che ora, anche nel nome di Domenico Fatiga, la comunità delle serre vibonesi rivolgono alle istituzioni. Fiaccole in mano per le viedi da sanno, manifestato anche la vedova e le tre figlie dell'operaio morto dopo un'agonia di due giorni a seguito della caduta da un'impalcatura. Un appendice d'amore ha fatto seguito al dramma di questo incidente sul lavoro, visto che gli organi di fatiga, così come era stata la volontà dell'operaio quando era in vita, sono stati donati e hanno strappato alla morte sicura due persone, assicurando ad altri due pazienti condizioni di salute migliorate. Agostino Pantano per l'AC News 24. Inaugurato a Girifalco il centro di accoglienza all'approdo che è in grado di accogliere 16 ospiti nel corso della cerimonia inaugurale, Don Piero Puglisi, presidente della Fondazione Città Solidale Onlus che gestisce la struttura, ha detto, la presenza di queste persone è motivo di ricchezza e di riflessione per tutta la comunità. È finalmente realtà il centro d'accoglienza all'approdo a Girifalco, sistema di protezione dei richiedenti asilo rifugiati. Una bella pagina di storia, l'ha definita Monsignor Vincenzo Bertolone, Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro Squillace. Una bella pagina di amore e di testimonianza cristiana, ma tutto questo grazie a Città Solidale che è un'emanazione della carità sediocesana, quindi me lo lascia dire un motivo di gioia anche per me. I primi ospiti della struttura sono già arrivati il 24 agosto scorso, oggi sono al completo per un totale di 16 profughi, un momento significativo che va verso l'accoglienza e l'integrazione, come è stato più volte ribadito nel corso della cerimonia inaugurale presso la Sala Consigliare del Comune di Girifalco, alla presenza tra gli altri del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, del presidente della provincia, Enzo Bruno, del sindaco Pietrantonio Cristofaro, del presidente della fondazione Città Solidale e direttore dell'ufficio diocesano Migrantes, Don Piero Puglisi. Abbiamo benedetto insieme alla Sua Eccellenza Arcivescovo questo cammino, questa esperienza perché sia dura dura nel tempo, ma soprattutto perché porti frutti di bene e di vita nuova per questi fratelli, per queste persone che accogliamo e anche per tutti noi perché la loro presenza è motivo di ricchezza, di riflessione, di stimoli anche per noi calabresi, per noi italiani. Siamo certi che da questo momento inizia un percorso virtuoso, positivo e di arricchimento per tutti. Rossella Galati per la CNews24. Cresce a Cosenza l'attesa per la inaugurazione della statua di Alarico, un ulteriore tassello nella corsa del capoluogo Bruzio, verso il titolo di Capitale della Cultura 2018. Tutto pronto a Cosenza alla confluenza dei fiumi Crati e Busento, dove verrà inaugurata formalmente domani la statua di Alarico dell'artista Paolo Grassino. La scultura è già posizionata nel luogo in cui, secondo gli storici, fu sepolto il re dei gotti con il suo ingente tesoro. L'opera è stata realizzata utilizzando un finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Cavica, le Sarà e il caso di Divlo, il cavallo di battaglia del sindaco occhiuto per promuovere la candidatura del capoluogo Bruzio a Capitale della Cultura Italiana 2018. Sarà uno dei tasselli fondamentali per completare quel percorso di valorizzazione del capoluogo Bruzio e del suo centro storico, promosso dall'amministrazione comunale per rilanciarne la vocazione turistica. La superficie della scultura è rivestita da una pelle di linee in rilievo che rende omogenei i tre elementi cardini dell'opera. Il cavallo, il re e la struttura che li sorregge sono legati insieme dallo stesso derma, da una buccia di onde che ridisegnano le forme e coprono i dettagli della figurazione. Alla cerimonia, oltre all'autore e dal primo cittadino, parteciperanno il sottosegretario ai beni e attività culturali Dovina Bianchi, il prefetto Gianfranco Tomao, il presidente della Fondazione Carical Mario Bozzo e Mario Pagano, soprintendente ai beni culturali per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Salvatore Bruno per la CNews24. Ieri alla Marina di Pizzo, evento speciale per la liberazione di Oana, tartaruga marina della specie caretta caretta, restituita al suo habitat naturale dopo un periodo di cure, ricevute nel centro di recupero di Brancaleone, nel Regino. Si tratta della nostra storia di oggi. Vai, 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 vai. Il mare, questo esemplare di tartaruga caretta a caretta, avvistato ad agosto scorso a largo di Amantea, in condizioni disperate. L'elica di un'imbarcazione le aveva infatti tranciato una zampa. Questa tartaruga in particolare aveva una frattura nel carapace, causata probabilmente da un'atante, insomma, da un'imbarcazione, da una collisione con un'imbarcazione, e inoltre aveva molta plastica nello stomaco, era fortemente debilitata e altri problemi minori. Dopo tre mesi di cure nel centro recupero di Brancaleone, la testugine, ribattezzata Oana, è completamente guarita. E così i volontari del centro di Brancaleone si sono messi in viaggio alla volta di Pizzo. È qui che davanti a un centinaio di bambini, amministratori, giocatori della volley tono Callipo e agli uomini della cappetineria di Porto, è avvenuta la liberazione in mare. A promuovere l'evento l'azienda Callipo, che ha deciso di sostenere questo importante centro della Calabria, contribuendo all'acquisto del nuovo sistema di filtraggio delle vasche. Abbiamo saputo dell'esistenza di questo centro recupero delle tartarughe marine a Brancaleone l'anno scorso e siamo andati a conoscere le persone che collaborano con questa associazione e quindi da quest'anno siamo loro partner e sostenitori. Oana è una delle oltre 300 tartarughe marine caretta caretta che dal 2006 sono state curate e restituite al mare e dal centro recupero tartarughe marine di Brancaleone. Perché è importante salvarle queste tartarughe? È una specie fortemente a rischio di estinzione, quindi anche un solo esemplare può garantire un proseguo della specie. Soprattutto lei che è già in fase riproduttiva, sarà pronta magari nei prossimi anni, già forse dalla prossima stagione, a deporre le uova. Questa iniziativa promossa e sostenuta dalla Tonno Callipo che ha visto il coinvolgimento dei bambini delle nostre scuole e quindi un'occasione anche per loro di sensibilizzazione al rispetto della natura, al rispetto degli animali. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24 E dopo questa bella storia passiamo allo sport, calcio in Serie A, si guarda al match del Miazza tra Inter e Crotone, crescono le chance di un buon risultato per i pitagorici, ci credono anche i bookmakers. Anche gli scommettitori tifano Crotone. Il match di domenica a San Siro per i bookmakers resta in mano all'Inter, ma negli ultimi giorni più di qualcuno ha investito almeno una giocata sulla squadra pitagorica. A confermarlo la repentina discesa della quota legata al successo del Rosso Blu nella scala del calcio. Ad inizio settimana superava anche di 18 volte la somma giocata, ora non va oltre le 14 volte. Sul web si scende addirittura a 12, nelle prossime ore potrebbe calare ancora. Segno che gli scommettitori danno fiducia alla squadra di Davide e Nicola. Il flusso non è anomalo, ma legato evidentemente alle disavventure del gruppo Nerazzurro, che ad inizio settimana ha silurato De Boer affidando la panchina al Primavera Vecchi. Ieri ha perso in Europa League e in campionato ha conquistato solo tre punti nelle ultime cinque partite. Uno in meno del Crotone, che negli ultimi due incontri di Serie A ha raccolto quanto la Roma, ma più del Napoli e del Milan. I numeri non mentono. Il colpaccio al Meazza quindi non è poi così improbabile, ora anche per gli scommettitori. Alessio Buompasso per la Cinus24. Andremo a Milano senza paura, lo dice il difensore Federico Ceccherini. Siamo felici di questi due risultati consecutivi utili. Siamo felici soprattutto perché abbiamo avuto un periodo difficile di adattamento a questa categoria, ma i frutti del lavoro che stiamo svolgendo ne stanno uscendo ora sul campo. Ora sulle linee dell'entusiasmo giochiamo contro l'Inter, che è una grande squadra. Se giochiamo come le ultime due partite, anzi, tre o quattro partite che giochiamo così, perché anche a Sassuola e Cagliari siamo stati tra virgolette sfortunati negli ultimi minuti. Però se giochiamo così, con questa cattiveria e questa attenzione, anche in fase difensiva, sono convinto che anche a Milano possiamo raccogliere dei punti. E noi scenderemo in campo, come ti ho detto, sulle ali di questo entusiasmo, degli ultimi risultati positivi, insomma anche del buon gioco. Noi bisognerà sfruttare le nostre caratteristiche, siamo una squadra che deve salvarsi e cercheremo di difenderci al meglio e sfrutteremo il contropiede, come abbiamo fatto con il Chiep. Sicuramente quando cambia allenatore, di solito una scossa c'è sempre, poi in più giocano in casa, contro il Crotone, la neopromossa, che siamo adesso ultimi in classifica, ovviamente vorranno fare il risultato, ma non troveranno dall'altra parte una squadra che va lì solo per fare una girata. Noi andiamo lì per fare il nostro gioco e cercare di portare via dei punti. E domenica in campo anche le Calabresi di Lega Pro, andiamo a studiare le avversarie. Turno di fuoco per le Calabresi, il Catanzaro ospita la prima della classe, la Juve Stabia, il terrore del girone. Le Vespe vantano un ruolino di marcia eccellente, tanto interno quanto esterno. Due soli stop in questo campionato, uno inflitto proprio dalla Regine Almenti, ma con 25 punti la Juve Stabia non ha nulla da temere. Al Marulla arriva la Casertana, che cercherà sicuramente di mettere in difficoltà il Cosenza, a reduce le due sconfitte consecutive. I campani, certo, non al massimo della forma, vorranno riprendere quota una gara non semplice su un campo altrettanto insidioso. Dopo aver ritrovato la vittoria in casa, la Vibonese farà visita alla Fidelisandria a più quattro sui rosso-blu. L'Andrea al momento è tra le prime otto compagini per rendimento casalingo. La squadra ha perso solo una volta contro il Monopoli, pareggiato contro il Catania, e vinto con la Paganese Melfi e Cosenza a punto, totalizzando dieci punti in cinque gare. Per la regina, a domicilio il Siracusa, penultimo in classifica. I siciliani in questo campionato sono riusciti a portare in casa l'intera posta in palio solo una volta. Per risalire all'ultima vittoria lontana dalle mure del Desimone bisogna andare al 10 aprile della scorsa stagione. Un cammino complicato dunque e l'unico risultato contemplato è la vittoria per allontanarsi dalla zona rossa. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. E chiudiamo. Dopo il primo successo in campionato il Città di Cosenza va a caccia del secondo risultato utile e consecutivo contro il Bogliasco. La prima vittoria stagionale contro Pescara ha ridato fiducia alla squadra di Cocce Capanna allontanando gli spauracchi delle due precedenti sconfitte. Davanti ora un'altra importante gara. A Cosenza arriva Bogliasco che già nella scorsa stagione ha dato filo da torcere classificandosi al terzo posto tra le migliori compagini quindi. Nel campionato 2015-2016 un bilancio positivo per le Cosentine ottenendo contro le Liguri una vittoria e un pareggio. Nel prossimo match il Sestetto Calabrese dovrà mantenere il ritmo ritrovato dopo tanto lavoro per non renderlo vano. Non sarà una gara semplice e questo lo sanno ma dalla loro hanno certamente la consapevolezza di poter raggiungere traguardi importanti. Le avversari al momento secondo in classifica continueranno a macinare punti senza concedere sconti a nessuno. Un fattore da non sottovalutare per il città di Cosenza è quello di giocare in casa da sempre punto di forza per pomeri e compagni e su cinque gare rimaste ormai nel girone di andata tre si disputeranno proprio tra le mura amiche. Maria Chiara Sigillò per la CNews24. E con lo sport si conclude questa edizione del nostro giornale grazie per averci seguito buona serata. visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia. La CNews mattina da lunedì a sabato alle ore 7 domenica ore 8 i calabresi sono informati. Grazie per la visione